Musica Vendite di pesce in calo dopo l'alluvione Confesercenti invita all'acquisto I controlli sono rigorosi e timori infondati La conferma arriva anche da pescatori e commercianti Noi siamo andati con l'asla a vedere E in effetti dopo si è messo a posto Insomma tutto quanto con le correnti del mare Tutto quanto l'acqua era pulita, era buona E le vongole erano diciamo buone per il consumo La ricerca fa passi da gigante Il 30 giugno d'Urbino Un convegno sulle nuove terapie per combattere il tumore Presenti numerosi professionisti appartenenti a tutte le strutture di oncologia Della regione Questa sera il vescovo uscente Armando Trasarti Riceverà dal sindaco Seri la cittadinanza onoraria A ringraziarlo anche i carabinieri Che hanno donato a sua eccellenza Una statuetta della Dea Fortuni L'Università di Urbino conferisce il sigillo di Ateneo a Massimo Moratti Industriale ed ex presidente dell'Inc Antartide 1914 L'impresa di Shackleton raccontata dal giornalista Luca Pagliari all'ex chiesa di San Francesco Al termine dell'evento sarà svelato il sindaco del paese dei Balocchi 2023 Al circolo tennis di Fossombrone è concluso il settimo torneo Open A vincere nel tabellone maschile Samuele Pieri Mentre nel femminile Anastasia Abbagnano Un cordiale saluto e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Il telegiornale di Fano TV I controlli sono rigorosi Il pesce è buono e di qualità acquistate tranquilli Con queste parole il responsabile di Confesercenti di Pesaro e Urbino Alessandro Ligurgo ha rassicurato i consumatori Che dopo la recente alluvione in Emilia Romagna Sono preoccupati per la salubrità del mare Noi siamo andati a sentire com'è la situazione a Fano con Cristiana Guerra Dopo i recenti fatti dovuti all'alluvione in Emilia Romagna Anche nelle nostre zone si è risentito di questa situazione Sentivano che dopo l'alluvione le vongole hanno la sabbia Sono sporchi dentro Oggi invece che pesce troviamo sul vostro bancone? C'è un po' di tutto Il pesce c'è Tutti i tipi di pesce ci sono I prezzi come sono? I prezzi sono buoni Non sono alti i prezzi Il pesce è buono, si può acquistare Stati tranquilli Il controllo si è stato fatto Anche voi pescatori avete subito in queste settimane un calo Noi abbiamo, quanto c'è stato l'alluvione, abbiamo fermato addirittura 5-6 giorni Proprio per dare al consumatore un prodotto buono Perché noi tutte le settimane facciamo dei prelievi con l'asle per le vongole Proprio per vedere se la salmonella e i schicchiacoli sono a posto Naturalmente con tutta quell'acqua che è venuta giù abbiamo paura anche che non fossero buone le vongole Perché sono molluschi che assorbono l'acqua Insomma, e allora abbiamo fermato 5-6 giorni E poi dopo di quei giorni siamo andati con l'asle a vedere E in effetti dopo si è messo a posto Insomma, tutto quanto, con le correnti del mare, tutto quanto L'acqua era pulita, era buona E le vongole erano, diciamo, buone per il consumo Lei signora che cosa ha comprato oggi? Oggi ho comprato le vongole La rana pescatrice E come si chiamano? Schiossi Schiossi si chiama Una seppia piccola piccola Che cosa acquista lei stamattina? Leca pesante In questo periodo ha acquistato ugualmente il pesce? No, no È stato un po' diffidente? Eh, un po' sì Un po' sì E oggi ha ricominciato ad acquistarlo? E oggi ha cominciato, sì Sperando bene Prezzi come sono? Eh, insomma, oggi sono abbastanza bassi Altrimenti Durante la settimana sono un po' più alti Un chilo di vongole Che ci faccio gli spaghetti Perché io il pesce lo mangio quasi tutti i giorni E quindi al sabato facciamo una cosa veloce Quindi lei non è stata colpita da questa psicosi Diciamo così Che da tre settimane circola Non è abile vuol dire che anche il pesce No, no, continua a acquistarlo Due incidenti si sono verificati a Fano questa mattina Il primo accaduto alle 10.45 Ha visto coinvolte un Audi A4 Condotta da un fanese di 49 anni E una moto Honda guidata da un 19enne fanese Rimasta ferita Secondo una prima ricostruzione Effettuata dalla polizia locale L'uomo stava procedendo in direzione Fano Quando giunto all'intersezione con via Mabellini Ha iniziato la manovra di svolta a sinistra Colpendo la moto che lo stava superando A seguito dell'urto Il veicolo a due ruote Ha impattato contro il muretto di un'abitazione La giovane è stata trasportata in ospedale In codice giallo Il secondo incidente invece si è verificato Alle 12.30 a Fenile Con una dinamica simile Infatti un 17enne stava percorrendo La strada provinciale Carignano In direzione Monte Quando ha avviato la manovra di svolta a sinistra Verso strada comunale di Carignano E si è scontrato con una dacia d'aster Condotta da un fanese di 45 anni Che lo stava superando Il centauro è stato trasportato dal 118 Al pronto soccorso del Santa Croce Sul posto anche la polizia locale Per i rilievi di legge Ha preso via anche quest'anno L'operazione Mare Sicuro Della Capitaneria di Porto di Pesaro Nel fine settimana la sala operativa Ha gestito tre eventi A distanza di poco tempo Il primo soccorso ha riguardato L'evacuazione medica di un ragazzo Dalla spiaggia di Fiorenzuola di Focara Dove è stato disposto L'invio dell'idroambulanza Nettuno che della Croce Rossa di Pesaro All'arrivo in banchina Per l'affidamento alle cure Del personale 118 Era presente anche la squadra In bicicletta della Croce Rossa Durante il secondo intervento È stata tratta in salvo un'anziana Dalle acque del porto di Pesaro La malcapitata è stata soccorsa Dai militari che per scongiurare Conseguenze più gravi Si sono tuffati in acqua Ed hanno recuperato la 94enne Con il battello veloce L'ultimo evento è avvenuto In una spiaggia libera a Fano Dove due bagnanti Che hanno rischiato l'annegamento Sono state soccorse dai bagnini Della concessione vicina In quel caso è intervenuta Una squadra a piedi Per i rilievi E gli accertamenti del caso La guardia costiera ricorda Che in caso di emergenza in mare Bisogna contattare il numero 1530 O il numero unico Delle emergenze 112 Questa mattina Una rappresentanza Dei carabinieri Della compagnia di Fano E delle sezioni Dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Fano Mondavio e Collio al Metauro Hanno voluto rendere di persona Il loro sentito ringraziamento A Monsignor Armando Trasarti Per la sua costante Premurosa vicinanza all'arma Durante i numerosi anni Del suo episcopato In particolare Il personale in servizio In congedo Hanno voluto ringraziare Sua eccellenza Per la sua costante perseveranza E rinsaldare in ogni occasione I principi della generosità E dello spirito di servizio Che animano le donne E gli uomini dell'arma A ricordo della giornata È stata donata a Trasarti Una statuetta Della Dea della Fortuna Sulla quale i militari Hanno riportato Un passo di una delle tante Omelie donate all'arma In occasione Della celebrazione annuale Della Virgo Fidelis E vi ricordiamo Che questa sera Alle ore 21 Nell'ex chiesa Di San Francesco Trasarti Riceverà dal sindaco seri La cittadinanza onoraria Per l'occasione Saranno presenti Anche i rappresentanti Istituzionali Delle altre tre Ex diocesi Riunite Quindi Possombrone Cagli E Pergola Andiamo a Pesaro Dove lo scorso venerdì 23 giugno All'hotel Excelsior Si è svolto In un convegno Sul turismo Organizzato dal Coordinamento Pesarese Di Fratelli d'Italia Marco Lonigro Un convegno importante Per confrontarsi Con coloro Che ogni giorno Operano nel settore Del turismo Tanti temi trattati Durante l'incontro Svoltosi Lo scorso venerdì 23 giugno A Pesaro Dal legame strettissimo Tra turismo E infrastrutture Al problema Della Bolkestan Per i gestori Delle spiagge La Bolkestan In combina Da tanti anni Siamo arrivati Un po' Alla fine Di un percorso Noi siamo A favore delle imprese Siamo accanto A queste imprese Perché riteniamo Che oggi Rappresentano Il valore Del territorio E temiamo Tutto quello Che possa Vedere O privilegiare Un'impresa Che non è collegata Col territorio Che impoverisce Non solo La filiera Ma che rischia Di disinnescare Un percorso virtuoso Che abbiamo costruito Che hanno costruito In questi anni E che ha portato Non solo le marche Ma il sistema balneano Italiano Ad essere il primo al mondo Stiamo facendo Un grande lavoro Sul sistema Aeroportuale Che è sicuramente Per noi Il sistema Più immediato Per colmare Quel gap Che ci rende Lontani Da tutto E da tutti Nonostante siamo Al centro Dell'Italia È una sfida Non semplice Però mi sembra Che con i voli Di continuità Il cui bando È in essere Con il volo Per Parigi Con i voli Raddoppiati Su Londra Con Bruxelles E tante altre Località E mete Che sono oggi Garantite Insieme a quello Che potrà essere Lo sviluppo Soprattutto Pensiamo a Berlino A Francoforte Che speriamo Che l'anno prossimo Possano essere mete Che si aggiungono A quelle attuali Si va piano piano A non solo Portare fuori Dal circuito nazionale E locale La nostra regione Ma si dà proprio La possibilità È l'opportunità Da ancora Le Marche Di diventare Un hub Importante A proposito Di promozione turistica Sguardo a Pesaro Capitale italiana Della cultura 2024 Secondo il governatore Della regione Marche La città pesarese È pronta Per ospitare Un evento così importante Pesaro È pronta Per la capitale Della cultura Pesaro È una città Bellissima Che ha un potenziale Enorme Ora Bisogna mettere Pesaro All'interno Di un contesto Marchigiano Che essendo L'unica regione In Italia Che si creina A provare Ha denotato Negli anni Sicuramente Una complessità A ragionare In maniera Aggregata E collettiva E questo è un limite Perché poi Andare ad aggredire I mercati I circuiti Internazionali Soprattutto Ma anche Quelli nazionali Da soli Come piccole dimensioni Significa Avere Le difficoltà Anche Proprio Dimensionali Assente il ministro Daniela Santanchè La sua presenza Era annunciata Nell'ambito Del dibattito La Santanchè Non era in sala E neppure In collegamento Presenti Le parlamentari Elena Leonardi Lucia Albano E il consigliere regionale Nicola Baiocchi La ricerca Fa passi Da gigante Ma per adottare Le nuove tecniche È necessario Condividere Le informazioni Ecco perché Le strutture Di oncologia Dell'AST Pesaro e Urbino Hanno deciso Di dedicare L'edizione 2023 Del congresso Giunto Alla tredicesima edizione A ciò Che è emerso A Chicago Durante L'ultimo Convegno mondiale Chi non ha potuto Partecipare Alla maratona americana Potrà approfittare Dell'incontro In programma Il 30 giugno Urbino A Palazzo Legato Albani Dal titolo From Chicago To Pesaro e Urbino Update In oncologia L'evento In cui si parlerà Delle ultime Strategie Terapeutiche In tema Di neoplasie È promosso Dal direttore Della struttura Di Urbino Vincenzo Catalano E dal direttore Di oncologia Di Pesaro Efano Rita Chiari Saranno presenti Il direttore generale Della ST Di Pesaro Urbino Nadia Storti In cattedra A relazionare Sui risultati clinici Sulle ricerche Sugli studi E numerosi Professionisti Appartenenti A tutte le diverse Strutture Di oncologia Della regione Marche E rimaniamo Sempre in tema Sanitario Perché dal Primo di luglio Prenderà Il via L'attività Di due Ambulatori A sostegno Della medicina Generale Per i cittadini Delle aree interne Il primo Presso L'ex Ambulatorio Comunale Nelle frazioni Di schieti Di Urbino Il secondo A cura Del comune Di Sasso Corvara Auditore Nei locali Della farmacia Di Casinina E l'idea Partita Dal distretto Di Urbino Per dare una risposta Alla cronica Carenza Di medici E che prenderà Il via Dal primo luglio Il direttore Di distretto Romeo Magnoni Fa sapere Che l'amburatorio Di schieti Si trova In via Dell'immigrante E sarà aperto Il martedì E il giovedì Dalle 8 Alle 12 E 30 E a visitare Sarà il dottor Roberto Rossi Il secondo Sarà svolto Dal dottor Corrado Di Pietro Nella giornata Di martedì Dalle ore 8 Alle ore 13 A Casinina Di Sasso Corvaro All'università Di Urbino Nella mattinata Di oggi Si è svolta La cerimonia Per il conferimento Del sigillo Di Ateneo A Massimo Moratti Grande impreditore E ex patron Dell'Inter Una vita per l'economia Lo sport E il sociale È il titolo Della lezione Magistralis Pronunciata Da Massimo Moratti In occasione Del conferimento Del sigillo Di Ateneo Dell'Università Di Urbino Signito Dalle 2.15 Del collare D'oro Nel tuo sportivo Massima Motoreficenza Del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Per queste motivazioni L'Università Di Istituti Turbino Carlo Mori Il reddito Romanesimo Che ha impregnato Tanta parte Della moderna Cività europea E che vuole offrire I trovi di oggi Un patrimonio Di idee Su cui fondare Un futuro Professionale E umano Attribuisce a Massimo Moratti Il sigillo Di Ateneo Moratti Oltre ad essere Imprenditore Ha saputo Concretizzare La sua passione Per lo sport Rilevando Nel 1995 Il club Che meglio Incarnava i valori A cui Egli era Stato educato L'Inter Nazionale Di Milano Squadra Che negli anni Sessanta Al tempo Della mitica Presidenza Del padre Angelo Aveva creato Un ciclo Di successi In Italia In Europa E nel mondo Massimo Si getta così In un'avventura Che durerà Fino al 2013 E consentirà All'Inter Di raggiungere Sotto la sua Presidenza Un numero Di successi Sinora ineguagliato Ben 16 trofei Importante Il suo impegno Per il progetto Inter Campus Che opera anche oggi Come strumento educativo E sociale In ben 30 paesi Nel mondo Unito alle tante Iniziative benefiche Portate avanti Con il fondatore Di emergency Gino Strada L'ex numero Uno dell'Inter E attuale Presidente Della Saras Ha parlato così Al termine Della cerimonia Mi è inso piacere Prima di tutto E onore Di essere qui E non mi aspettavo Questo affetto Che naturalmente Si è sviluppato Adesso specialmente Dai tifosi Dell'Inter E tutto È una bellissima cosa È una bellissima giornata Spero di essere stato All'altezza Di quello che è La grandissima fama Di questa Di questa meravigliosa Università Di cui ringrazio ancora Il magnifico rettore Per l'ambito Il consiglio è sempre Quello di avere fiducia Insomma Di cercare di avere fiducia E di cercare di conoscere Il più possibile Cioè quello che è importante È fare un pieno Di conoscenze profonde Del territorio Dove vogliono lavorare E fare delle esigenze Delle necessità E quindi fare dei lavori Che rispondano A delle necessità Sono lavori che rimangono Applausi 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 A Pesaro Nel mese di settembre La primaria Mascarucci Si sposterà In Viale Trieste 296 Il cambio di sede È valido A partire dal prossimo Anno scolastico Per le 14 classi Frequentati Dai 250 alunni Dell'edificio di Soria Una scelta necessaria Hanno spiegato Il sindaco Ricci E l'assessore Murgia Perché i controlli Che abbiamo fatto Dopo le scosse Di terremoto di novembre Proseguiti Fino a queste settimane Hanno indicato Che l'edificio Di via Agostini È stato danneggiato Dal sisma Per questo Insieme ai tecnici Abbiamo deciso Di spostare La Mascarucci Alla Pesaro Studi In un luogo Sicuro e adeguato Nella ridistribuzione Degli spazi Si hanno proseguito È previsto Anche lo spostamento Dell'università Nel quartiere Di Muraglia In attesa Che il San Domenico Dopo i lavori Finanziati Dal PNRR Possa accogliere Al meglio L'Ateneo Stabilendo Una sede In centro storico Domani sera L'ex chiesa Di San Francesco Il giornalista Luca Pagliari Racconterà La straordinaria Operazione Di soccorso In Antartide Del grande Esploratore Ernest L'iniziativa Rientra Nell'ambito Di fuori paese Del paese Dei Balocchi Avventura Coraggio E capacità Di resistere A difficoltà Estreme In un ambiente Come l'Antartide Sono questi Gli ingredienti Che caratterizzano L'impresa Di Ernest Shackleton Uno dei più grandi Esploratori Di tutti i tempi Il protagonista Di una straordinaria Operazione Di salvataggio Tra i ghiacci Di lui Parlerà Il giornalista Luca Pagliari Mercoledì 28 giugno Alle ore 21 Nell'ex chiesa Di San Francesco Afano Durante l'iniziativa Intitolata Un giorno alla volta 28 uomini Sulle tracce Di un'impresa Possibile L'appuntamento Rientra nell'ambito Di fuori paese Il contenitore Culturale Di iniziative Che introducono Al paese De Balocchi Come annunciato Dal presidente Dell'associazione Michele Brocchini Al termine Dello spettacolo Ci saranno Anticipazioni Sul programma E sul nuovo Sindaco Della manifestazione Che quest'anno Torna in piazza Bambini del mondo A Bellocchi di Fano Dal 17 al 20 agosto Luca Nella splendida Cornice Dell'ex San Francesco Lei narrerà L'impresa Di Shackleton Nella traversata Del continente Antartico Ma che cosa fece Di così eroico? Beh Forse Bisognerebbe dire Quello che non fece Perché ha fatto tutto Quello che Umanamente Era possibile E cioè Salvare Delle vite umane Così abbiamo spoilerato Tutto all'inizio E siamo a posto Beh giusto Qualche anticipazione Ecco E Diciamo Il fallimento Più di successo Nella storia Diciamo Delle spedizioni E vuole essere anche Una riflessione Sul senso del coraggio Questa iniziativa La storia di Shackleton E' una storia Che si presta A tantissime riflessioni Perché sono 28 uomini Che per quasi due anni Hanno vagato nel nulla E quindi E' un discorso Di relazioni Di leadership Di capacità Di Conformarsi A nuovi obiettivi E' una storia Che veramente Contiene Tanti elementi C'è voluto molto Per ricostruirla Con tante immagini Veramente straordinarie Quello sono Il valore aggiunto Le immagini straordinarie Che accompagnano Questa narrazione Dopo questo appuntamento La rivedremo anche Al paese dei Balocchi A fine agosto Naturalmente si Quello è un appuntamento Fisso Un grande classico Quindi E' un'occasione Che tutti gli anni Mi concedo Per Fare un qualcosa Che arrivi Veramente al cuore Allora vi aspettiamo Comunque domani sera Alle 21 Chiesa di San Francesco E' una grande abitudine Oramai Perché Questo Fuori paese Legato al paese Dei Balocchi Insomma Ci sta particolarmente A cuore A domani Invece Domani pomeriggio Alle ore 18 Al Fano Marine Center Verrà presentato Il progetto Ecomuseo Un progetto Di museo Diffuso Per la comunità A cura Del tavolo Economico Città di Fano E in collaborazione Con il sindacato SP CGL Provinciale All'iniziativa Coordinata Dalla segreteria generale Lilli Gargamelli Interverranno Giuliano Giampaoli Responsabile Del progetto Memoria CGL Maria Lucia De Nicolò Dell'Università Di Bologna Ed Etienne Lucarelli Insieme a Cora Fattori Rispettivamente Assessore Alla attività Economica E alla cultura Torniamo a parlare Nuovamente Di Passaggi Festival Con le presentazioni Librarie Di tre ospiti La cantante Gigliola Cinquetti Intervistata da Stefania Bonomi Il politologo Piero Ignaz Intervistato Da Cristiana Guerra E infine Il saggista Franco Cardini Che ha ricevuto Il premio Passaggi 2023 E intervistato Da Esther Musco Gigliola Cinquetti Ha un piacere Averla a Fano Prima di tutto È la prima volta Che viene a Fano Sì Incredibilmente Sì Hai riuscito A fare un giro Della città Subito Appena arrivata Io subito Mi impadronisco Del territorio Bellissima Bellissima Un centro storico Potente Pieno di cultura Edifici possenti Fortificazioni Palazzi Bello Bellissimo Quando ha scelto La strada Della politica O perlomeno Testimoniare La politica Ma la politica Mi piace Ne ho sempre parlato Intensamente Con mio marito Che È un esperto E che mi ha insegnato Molto E poi L'amore Per il mio paese Insomma È sempre stato In me Molto forte Infatti Quando mi è stato offerto Di andare a vivere In altri paesi Perché avevo successo In Francia Avevo successo Agli Stati Uniti Ho sempre detto No Io vivo in Italia Perché è il paese Più bello del mondo E Il momento in cui Diciamo Ho partecipato Più attivamente È stato Il periodo Dell'ulivo Ero 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 Mi è stato Chiesto Il discorso Che per riuscire a promuoversi Non è più necessario Alla televisione Ma ormai ci sono i social Sì è vero È il mondo capovolto Il backstage È diventato Il front stage Il pubblico È diventato Il protagonista L'artista È soltanto Un comprimario È finito È finito Il divismo Il divismo Io l'ho sempre Considerato Qualcosa Che ci veniva Dalla Dalla Grecia antica Era qualcosa Secondo me Di grandissimo Valore e importanza Non so Se poi Arriverà Un periodo In cui tutto Si capovolgerà Nuovamente Però in questo momento Io vedo Veramente la realtà Capovolta Quello che lei Chiama Diversa sensibilità In realtà È un arreclamento Piero Ignazzi Autore di 25 libri Stasera Passaggi Presenta Il polo escluso Di che cosa si tratta? È un libro Che ricostruisce Le vicende Del partito Neofascista Che venne formato Nel 1946 Il Movimento Sociale Italiano E poi prosegue Con le evoluzioni Che sono state Successivamente La sua trasformazione Il suo ingresso Nell'area governativa A partire dal 1994 Con la dirice Di Gianfranco Fini E infine L'ultimo passaggio Con la ripresa Di quella tradizione Dopo un periodo Un po' di oblio Che c'è stato Tra gli anni 2010-2012 E appunto Da 2013 Il ritorno Della fiamma Per iniziativa Di Giorgia Meloni E di Ignazio Larussa Che poi ha portato A questo straordinario successo L'anno scorso Portando questo partito Al 26% E l'ingresso Al governo Con A capo Dell'esecutivo Proprio Giorgia Meloni Che cosa La preoccupa Se c'è qualcosa Che la preoccupa Nel panorama Della scena politica Italiana Ovviamente c'è L'inesperienza Di questa Compagione governativa Che non ha mai avuto Responsabilità E il profilo Di questa Di questa classe politica È giudicato Universalmente Abbastanza fragile E debole E questo quindi Può essere un problema Nel momento in cui Si affrontano delle crisi Fin qui non ci sono state crisi Non ci sono stati momenti Di difficoltà Se Emergessero Dei momenti difficili Critici Per il nostro sistema politico Beh allora Questa inesperienza Potrebbe creare problemi Che cosa Occorre per essere Un bravo politico Oggi Oltre a tanta passione Secondo lei Il mio politico ideale È un politico Sobrio È un politico Che riscopre Delle virtù antiche Non solo Di dedizione All'interesse collettivo Ma anche Di uno stile Di vita personale Molto più sobrio Rispetto invece Alla tentazione Che hanno esibito Negli ultimi tempi Tanti politici Non solo in Italia Invece di esprimersi Con una stile di vita Che è quello Diciamo Un po' troppo scintillante Rispetto alla vita Media delle persone La direzione Di Passaggi Festival E il comitato scientifico Conferiscono A Franco Cardini Il premio Passaggi Dell'edizione 2023 Dove essere lei Un storico Del Medioevo È uno degli intellettuali Europei più apprezzati E quest'anno L'undicesima edizione Le conferisce Il premio Passaggi Con le sue Vie del sapere Di che cosa si tratta? Le vie del sapere È un tentativo Di tracciare Un quadro generale Di come si imparava Di che cosa si imparava Quindi di come Avveniva l'apprendimento Se c'è un apprendimento C'è anche un insegnamento Di come quindi Avveniva anche l'insegnamento Non è quello Delle accademie Del primissimo rinascimento Che sono figlie dirette Anche loro del Medioevo Campeggia naturalmente Fra tutti Anzi campeggiano Tre grandi momenti Il momento del rinnovamento Carolingio Quando Carlo Magno Si rende conto Che bisogna rifondare Il sistema delle scuole Che però in Roma Era un sistema di scuole Per aristocratici Era un sistema di scuole esclusive Poi a un certo punto Succede qualche cosa Dopo Carlo Magno Sensibilmente dopo Carlo Magno Tre secoli dopo circa Che arriva dal mondo islamico Una novità Cioè un insegnamento Che non viene impartito Direttamente dalla chiesa Il che per l'occidente È una novità E viene impartito Sul principio mercantile Della vendita E dell'acquisto Cioè la cultura È una merce Nel bazar della capitale Oltre alle stoffe Alle spezie Agli schiavi All'oro E via discorrendo Si vendeva anche la matematica Si vendeva anche la medicina Si vendeva anche l'astronomia E poi c'è un'ulteriore novità Che è a prendere con attenzione La novità di quando Con l'umanismo E con il rinascimento Si inventa un altro modo Di insegnare Di imparare Di comunicare Perché a differenza Di tutti i modi precedenti Questo è un modo Che non amplia Lo spettro Di chi impara E quindi Non serve Alla crescita Della società Ma serve Semplicemente Alla concentrazione Del sapere Nelle mani di pochi Il suo Non è proprio libro Lei definisce Una guida Per spiegare L'Europa attuale Partendo Prendendo spunti Dal Medioevo Come ci ha trasformato La storia Sì Io lo definisco Ancora peggio Quando nessuno Mi sente Dico È a mio avviso Una specie di bignami Insomma È una guida Che deve ricordare Per sommi capi Certe cose A chi non le sa E quindi deve essere Forzatamente Semplice Incisiva Ci sono delle lacune Senza dubbio Nel suo libro Guida Si evince una cosa Importantissima Come in qualunque viaggio Soprattutto Quello sulle vie Del sapere E il suo focus Lo porta sul ritorno Il ritorno Il ricordo Che ha più importanza A volte dello stesso viaggio Della conoscenza dell'uomo Del nuovo Soprattutto E questo è Un principio Antropologico Credo incontrovertibile Quello che i greci Chiamavano il nostos Che vuol dire ritorno Da cui viene la parola italiana Nostalgia La malattia del ritorno Quando si parte Si parte sempre Con la voglia Di tornare È la prova Della necessità Del viaggiare E della necessità Di trarre Frutto Dal viaggiare Quando naturalmente Il viaggio è finito Quindi Noi tendiamo sempre A una meta Ma questa meta Non è quella Della pura andata È quella Del ritorno Hanno ragione Gli spagnoli E soprattutto Gli argentini Quali hanno creato Una filosofia Del volver Una filosofia Del ritorno Che poi ha dato frutti Soprattutto nella musica Eccetera Auguriamo un buon viaggio Sulle vie del sapere A tutti Grazie Grazie a lei Il piccolo tennis Forsempronese Ha ospitato Il settimo torneo Open maschile E femminile Città di Fossombrone Che si è svolto Dal 9 Fino al 24 giugno Questo torneo Di portata nazionale Si configura Come uno degli appuntamenti Più importanti Del centro Italia Della categoria Open Sia per Montepremi Che per dimensione Con più di 160 atleti iscritti Ma anche di assoluta qualità Con ben 62 giocatori E giocatrici Di seconda categoria Di cui Almeno 10 Con ranking internazionale A vincere l'edizione 2023 Nel tabellone maschile È stato Samuele Pieri Di Visenzio Su Alessandro Pecci Di Canottieri Padova Mentre per la sezione Femminile È stata Anastasia Abbagnato Di Palermo Su Sofia Rocchetti Di Tolentino Soddisfatti Gli organizzatori Che hanno visto La struttura Popolarsi Di spettatori E giocatori Tra sano sport Divertimento E aggregazione Ok allora Parlo in generale Dell'andamento Del torneo Dove È un'edizione Assolutamente riuscita In termini Sia di numeri Che di livello Tecnico In quanto abbiamo avuto Soprattutto nel tabellone Di seconda categoria Quindi nel tabellone Finale Ben più di 60 giocatori Di seconda categoria Di cui Almeno 10 Con ranking internazionale E quindi Siamo contenti Per la grande partecipazione Per Quindi l'alto livello Anche Di tennis In termini di spettacolo E di livello tecnico E soprattutto Di partecipazione Del pubblico Il torneo È risultato Molto positivo Perché comunque Nella totalità Ci sono stati 160 iscritti E non sono mancati Gli eventi conviviali Anche extra sportivi Che hanno permesso Comunque Un'aggregazione sociale Diciamo Tra le persone E tutto questo È stato merito Anche dell'organizzazione Sia dei giudici arbitri Che della direzione sportiva E di tutto il consiglio D'amministrazione Del circolo E questa era la nostra ultima notizia Subito dopo di noi Le previsioni del tempo E a seguire Lo spettacolo Di magia danza Che si è svolto A Senigallia Al teatro La Fenice È tutto Grazie per essere stati Con noi E buon proseguimento Di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti